I fraintesi ritentano l'impresa, dopo il gran colpo di ieri. Mettete pure le cuffie. Attenzione, Marco, Michele e Pietro. 122 mila euro. Allora, Marco, mi senti bene? Sì. Ok. Michele? Sì. E Pietro? Bene, bene. Tutto ok? Ecco l'ultima catena. Pietro, arco, ti rubato. Pietro? Tempo, arco di tempo, un lasso temporale. Sì. Tempo rubato, anche calcisticamente. Sì. L'istante, insomma. Si usa, tempo rubato, rubato il tempo. Sì. Oppure tempo rubato un'attività a favore di un'altra. Ok. Andiamo da Michele adesso con rubato, S, riso. Michele. Dico sorriso. Riso, sorriso, sorriso rubato. Vediamo. Ahia. Un errore. Però, Marco, c'è un'altra lettera per te. Rubato, S, O, riso. Marco. Soffiato. Soffiato è sinonimo di rubato. E poi il riso soffiato è un tipo di riso, sì, una colazione. Una colazione. Ed è? Esatto. Bravo, Marco. Ripartiamo. Bilancino è il primo giro, eh. 61 mila euro, quindi molte premi di mezzato, ma ancora molto importante. Due jolly tutti da giocare. Forza Pietro. Riso. P. Cuneo. Pietro. Giolli. Gioca il jolly. Giochiamo il jolly. Riso. P.I. Cuneo. No, però Piemonte. Piemonte è una provincia di Cuneo. No, se esiste il riso Piemonte. C'è Cuneo. C'è Cuneo. No, io direi Piemonte. Piemonte. Vabbè, Cuneo è in Piemonte. È una città di Piemonte. Con il riso non ho l'attinenza. Beh, il Piemonte ha grandi risaie, un grande produttore di riso. Ecco perché è legato appunto a riso. Michele, abbiamo Cuneo. Z. Piena. Michele. Provo con Zeppa. Piena e Zeppa sono sinonimi. Sì. E il Cuneo a Zeppa. A Zeppa è un piccolo Cuneo, no? Magari è un mobile che si muove e si mette una Zeppa. Bene così. Forza Marco. Piena. L. Chiaro. Marco, dico luna, la luna piena. Sì. E al chiaro di luna è un modo di dire. Sì, ma anche la famosa sonata di Beethoven ha un modo di dire al chiaro di luna. Presa. Bravo Marco. Abbiamo ancora un jolly. Forza Pietro. Chiaro. M. Folle. Dietro. Gioco il jolly. Giochiamo il jolly. E allora attenzione. Chiaro. M. E. Folle. Sono un folle. Oppure a folle la macchina. Messa. Messa in chiaro. Messa a folle. Forza. Pietro. Messa. Messa in chiaro. Messa a folle. Folle. Vediamo. Ahia, purtroppo è sbagliato. Ma entra un'altra lettera. Potete ancora parlare. Chiaro. M. E. M. E. Folle. Mettere in chiaro e mettere a folle. Sì. Dietro. Mettere. Con la stessa accezione di prima. Mettere in chiaro e mettere l'auto a folle. Cioè disinnestare la marcia. Se fosse giusto portereste 30.500 euro all'ultima parola. Quindi anche oggi un monte premi. Molto importante. Ed è mettere. Bene così ragazzi. Bravi. Un po' di sfortuna a un certo punto. Ma con 30.500 euro andiamo all'ultima parola. Oggi ne abbiamo 30.500. Quindi ancora molte premi importantissimo. Provate anche voi da casa. Partiamo da folle. I. I. N. O. Finale. E il terzo elemento. Esto. Innestato. Ma guarda. Teniamola. Un folle. Un folle è una persona matta. Pazza. Quindi. Un folle. Un in. Intuito folle si dice. Un folle intuito. Teniamola. Ancora su persona. Sono un folle. Un in. Sei uno scalmanato. Sei un pazzo. Un individuo. Un individuo folle. Un in. Vabbè cambiamo. Folle. Un tipo. Folle è tipo molto no? Sì. Folle. Le folle. Le folle. Plurale di folle. Sì. Però il fatto è che poi è singolare sotto no? In. Alteniamo macchine a folle. Modi di dire? Forse a folle pure tipo libero capito? A folle. Ah dire stare a folle nel senso stare. Senza tipo pressione diciamo senza. In. No. Altrimenti? Un folle se no pensiamo sempre alla persona. Ci sa qualche sinonimo. O modi di dire. Uno intuitivo. Non lo so si dice. Un folle. Sei un ingegno. Sei un folle. Non lo so. Un ingegno folle. Modi di dire. Folle. Andà a mettere a folle una persona folle. Idea folle così. Aizzare la folla si dice. Incitamento. Delle folle. Incitato. Folle. Incitato. Integrato. Un indizio. Un indizio. Indumento. Un inizio folle. Indumento. Folle. Compriamo. Michele. Forza. Questa sera compriamo. Questa sera compriamo. Allora dimezziamo. Ed ecco il terzo elemento. Bonsai. Innesto. Eh sì. Perché? È una cosa tipica delle piante. Bonsai delle piante. Tra quelle che abbiamo detto. La mia. Innesco folle. Che significa? Aspetta. Andiamo però su bonsai. Bonsai è una cosa pungente. Quindi? No. Una pianta piccola. Ah ok. Quindi in? Un sinonimo magari di. Ah piccola. Qualcosa piccola. Infinitesimo. No. Un bonsai è un. No. Non è una cosa piccola. In insetto da bonsai. In due tre. Abbiamo detto prima. Inizio. Intuito. Intuito. Il bonsai è questa? È una base. Oppure il bonsai è un formato piccolo no? Sì. Quindi inetto no? Sei in. 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 Tu. Po. In. Un bonsai. No. Devo dire? Secondo me innesto. Michele. Innesto anche se. Qual è la parola di stasera? Innesto. Togliete le cuffie. Innesto. Con bonsai. Bon bonsai. Capisco perché è venuto innesto. Con folle? Eh mi hanno detto un innesto folle. Ma non siamo. Con folle. Non siamo convinti. Un pizzico di follia. Avete molto cercato rispetto a folle. A sinonimi di folle no? Folle, un folle, un inn. Un folle. Avete detto più forte. Un inn. Siamo andati molto vicino. E bonsai. Come si fanno i bonsai? Bisogna per forza metterli? Nella terra. In un vaso. No? Sì. Altrimenti crescono. Innaffiato? No. No. Invaso. Interrato. La parola di stasera del valore di 15.250 euro è? Invasato. Un folle. Un invasato. E il bonsai deve essere per forza invasato. Ok? Altrimenti crescerebbe troppo. Peccato. Ma vi confermate campioni. A domani ragazzi. A domani anche con voi. Vi lascio a TG1. Buona serata a tutti di cuore. Ciao.